Con una barca però eh? Con una barca? Ma come faranno? Ah ma secondo me non hanno trovato il visto e vanno con un pescatore. Ma, ma, e la famiglia cosa dite? La famiglia non sa niente, però ha detto che sono andati già da sciamana, quindi... Lei mi ha detto che andrà bene, però sa tanta morte. Mi sono andati, se non viene a sapere fatto. Non deve sapere che è fatto eh, mi raccomando, sai com'è quella lì? Poi, è un segreto, per favore, non dite niente. Va bene, non dirò niente. Ascolta, io adesso devo correre perché devo andare da mia mamma, se no mi iscriveretevi. Va bene, vi saluto, ciao!